Questo video ci porta in un viaggio attraverso la galassia attiva catalogata come NGC 5548, al cui centro si trova un buco nero 40 milioni di volte più massiccio del nostro Sole, tutto concentrato in una regione più piccola dell'orbita terrestre intorno al Sole. Il gas spiraleggia intorno a questo buco nero e ne viene risucchiato, riscaldando le zone circostanti e producendo un'intensa radiazione energetica in raggi X. Questa caldissima corona di raggi X è alimentata da un disco di accrescimento in rapida rotazione. Il disco produce anche forti venti intermittenti di gas caldo proiettati verso lo spazio esterno e di cui alcune regioni più dense possono oscurare i raggi X emessi in direzione della Terra, qui rappresentati dalla linea verde. Spostandosi verso l'esterno si possono osservare i venti prodotti dalle zone periferiche del disco rotante, dove sono presenti particolari addensamenti chiamati broadline clouds. Ad alcuni anni luce e di distanza dal buco nero, i venti caldi assorbono anche una parte dei raggi X e ultravioletti provenienti dal nucleo. Questi venti possono raffreddarsi quando le nuvole più interne oscurano la radiazione emessa dal nucleo.